Isola dei famosi 2018, un altro concorrente si ritira, Craig Warwick. Nuovo colpo di scena all'Isola dei famosi. Il settimanale spia ha annunciato, attraverso il profilo ufficiale Instagram, il ritiro di un altro concorrente, dopo quello della scorsa settimana di Chiara Nasti. Il comunicato annuncia che il nome del naufrago verrà svelato nel corso della quarta puntata, in onda questa sera su Canale 5. Secondo quanto rilevato dal sito 361 Magazine, si tratta del sensitivo Craig Warwick, che cadendosi è infortunato alla gamba e quindi è stato costretto a ritirarsi.